Ciao a tutti ragazzi, bentornati a un nuovo episodio di Carriera Arenatore. Vi volevo ricordare che in descrizione a questo video vi ho lasciato un link per scaricare gratuitamente l'app di OneFootball e poter ricevere tutti gli aggiornamenti dai campi della vostra squadra del cuore e del campionato in cui gioca. Si può seguire al nazionale e c'è anche un'ampia sezione con le notizie fuori dal campo. Per cui scaricate l'app e io vi lascio al resto del video. Ok ragazzi, siamo tornati sempre alla nostra carriera con Lellas Verona. Abbiamo iniziato il campionato con le prime due partite Napoli e Crotone. Abbiamo perso l'ultimo secondo con il Napoli e invece abbiamo vinto con il Crotone. Sempre tanti gol da una parte dall'altra, partite molto emozionanti e un gameplay carino e coinvolgente. Vi ho salutati che mancavano dieci ore al termine del mercato per tenervi un pochino sulle spine. Oggi da quelle spine io vi leverò perché vi farò vedere come andrà a finire l'ultimo giorno di mercato. Se riusciremo a fare degli acquisti. L'obiettivo è di prendere un esterno sinistro sostituto di Lazovic e invece una punta titolare, preferibilmente che sia almeno 74 di totale, che possa alternarsi con Supradin Supriaga. Non so perché è venuto sto soprannome mentre montavo il video. E si alterneranno per tutta la stagione. Effettivamente tenere Supriaga come unico attaccante con Faviglia alle spalle è un po' poco per la stagione che vorremmo fare noi. Noi sappiamo che l'Elas Verona già l'anno scorso aveva raggiunto delle buone posizioni in Serie A con la formazione che poi abbiamo attualmente. Per cui si tratta di aggiungere qualche rinforzo, trovare un buon schema di gioco e cercare di fare qualche passettino in più per arrivare nei famosi posti di Europa League. Quindi quinto, sesto, settimo posto. Tuffiamoci subito nell'Hub Mercato. Qualche nome non nego che l'ho inserito, ma ovviamente erano nomi che mi avevate già scritto o nei commenti di YouTube oppure in live. Il mio sogno rimaneva prendere Cistana, ovviamente squadra rivale. Ayer è andato a Real Sociedad. Abbiamo provato anche a prendere Salsedo, ma era all'Inter, quindi non ce l'hanno voluto dare. Il problema è che a me avrebbe fatto piacere inserire qualche italiano in questa nostra carriera. Ma se la maggior parte degli italiani gioca in Italia e quindi sono squadre rivali e non ce li vogliono vendere, noi siamo costretti ad andare all'estero e purtroppo faremo degli acquisti che saranno di giocatori non italiani. Abbiamo ormai 10 milioni che vorrei spendere tutti sul bomberone lì in attacco. Quindi magari l'esterno ce lo prenderemo in prestito. Bomber quali potrebbero essere? A me piacerebbe molto l'Occadia, ma è prestato. Luis Suarez del Watford, omonimo dell'ex Barcellona, ora l'Atletico Madrid. Lui mi avete detto che è fortissimo. Vedendo un po' le prime statistiche che arrivano dagli osservatori, vedendo l'età, vedendo comunque il fatto che al Watford, quindi Serie B inglese, possiamo approfittarne, non sarebbe troppo irrealistico come acquisto, anzi. Altrimenti Sanabria ha buon rapporto, secondo me qualità-prezzo è un attaccante che può fare un po' tutto ed ha costato la Serie A. Nunez appena trasferito, l'avevamo utilizzato all'Ajax, ci piaceva molto. Si può comunque ipotizzare un prestito, se no ritorno di Livaia in Serie A. Cabral, lasagna, che ha delle statistiche folli, ma magari è meno di appeal. Unal non ce lo danno. Moisekin si può prendere in prestito, sarebbe la mossa più realistica di tutte. Benedetto è fuori budget, Seferovic è già trasferito. E poi ragazzi ho aggiunto due esterni, Mihaela, che però è appena andato al Reims. Se no ho pensato anche a Iroki Abe. Si può pensare di prendere Abe in prestito anche qui dal Barcellona, farlo crescere e di darlo al Barcellona un pochino più cresciuto. Prima cosa che vorrei fare io ragazzi è vedere, eventualmente, se l'Everton è disposto a darci Moisekin in prestito. Il club non è interessato a cedere ai giocatori in prestito, niente. Se volete lo si può comprare. Eh cavolo, però a ritorno di Moise era un italiano, ci stava eh. E allora si va sull'acquisto. Si va sull'acquisto e prenderemo in prestito l'esterno. Ok, una squadra non rivale. Proviamo a prendere Suarez, dai. Prima che vada in Premier League che diventi impagabile. Allora, offerta per il cartellino. Qua non abbiamo soldi eh, ve lo dico. Io parto da 12 milioni. 12.3! Ma ragazzi, ma è pochissimo. Controfferta. Dopo c'è il 10% e 12.3, che era quello che mi avevano detto prima. Accetto! Accettato! Allora ragazzi, chiedevano una cifra alta, ma con il 10% alla vendita accettano di venderlo a 12.3. È pochissimo, vale 12.5. Proviamo a vedere quanto ci chiedono per Moisekin e poi dopo facciamo un confronto. 11.9, però 20% di clausola no. 11.5, controfferta, modifica clausola, 10, avanza. Accetto! Ok ragazzi, allora. Ora possiamo fare un bel confronto. Prende troppo di stipendio. Ah, non ho visto lo stipendio, è vero? Qua cazzo, prende 50.000 di stipendio, Keen. Andrebbe abbassato. Suarez lo scopri te e prende pochissimo. Keen è un po' una minestra riscaldata secondo me, però Vox Populi. Dai, prendiamo Suarez, basta. Cioè, per il valore che ha conviene, prende meno di stipendio, è dal Watford, è meno visto e rivisto. Prendiamo Suarez e basta, tratta. Lui mi chiede 20.5.000 di stipendio. Allora, il bonus di 5 gol no, perché chiaramente li farà. Io farei 20.000 e 5 va bene. E qua metterei il bonus ingaggio a 150.000, vediamo. Accettato! Accettato! Arriva Suarez, che tra l'altro mi state dicendo che è soprannominato il Bisonte. Ed è un 75, voglio vedere l'esagono. Porca miseria, ragazzi. Gli manca il colpo di testa, l'avevo visto subito. E ha anche un po' poco dribbling effetto. È proprio un bomber d'area. Mi sembra forte questo. Questo è forte, questo sale. Va bene, andiamo avanti. Aspetto ancora di vedere se mi arriva un'offerta, perché se non arriva un'offerta, dobbiamo veramente prendere un prestito. Tra l'altro un prestito di un giocatore che prende anche poco di stipendio, perché non abbiamo più soldi. Cioè, abbiamo cercato per un'ora, avevo già Abe, che però, ragazzi, sapete, lo detesto. Cioè, lo detesto già. È arrivato dopo che ne volevo prendere altri 28. Come pensate che io reagisca? Questo non me lo danno. Non ci credo! Me lo danno! Non è vero! Dopo 10 tentativi, sushi Abe, me lo danno! Incredibile! No, non è vero! Dai, rifiuta! È uno scherzo! È uno scherzo! Non voglio neanche il diritto di riscatto! Non abbiamo più soldi! Lo paghiamo più di Moisekin! Questo qua! No, 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 va bene! E non posso! Non ho più soldi! Andata! Andata! 55,45! Siamo rimasti con 0 euro! Questo è ufficiale! Se mi rifiuta perché vuole rimanere a Barcellona a fare la muffa, io divento una bestia, e ve lo dico! Rifiutato! Io so che siete lì a ridacchiare, io non rido un cazzo, non sto ridendo! Cioè, non voglio fare acquisti così, mi dà fastidio troppo fare acquisti così! Maroni? Ecco, Maroni! Sembra una presa per il culo! 55,45! E ora rifiutano! Ok! Oh, è arrivato Maroni! Incredibile ma vero! Poi arriva la Talan Agnaspor su Vitale, 32 anni, terzino, fuori! Facciamo così! C o C lo metterei E, S e poi lo alleno in tiro, piuttosto che fare A, S non è un giocatore da A, S ragazzi, e noi abbiamo già, abbiamo già Lazovic che è E, S e guardate come gioca! Io farei due settimane per renderlo centrocampista sinistro e aspettiamo di vedere come va! Ah no, ma lui A, S ce l'aveva già tra le... guardate! Lui è già C o C e A, S quindi aggiungendogli le S, secondo me è meglio! Poi dopo quando diventerà S vediamo come cambiarlo anche nelle statistiche! E andiamo avanti! Giorno di riposo e avremo la partita contro la Samp in campionato! Allora andiamo a vedere! Suarez è riposato, allenato bene! Valentini, Zaccagni, Lazovic, veloce, dovrebbe essere sceso di uno purtroppo ma l'età è quella! Rue, Gassise, Van Drongren, Faraoni... Io direi che la prossima la giochiamo così, mi spiace ma ha bisogno di giocatori lucidi per una partita come quella con la Samp che è dove ci si gioca punti importanti! Veloso! Sale! Valentini, no, ha chiuso! Benassi, proviamo con Zaccagni di sinistro, paraudero! No, Sissè è un gigante in mezzo all'area, Sissè! Nell'anno del ritorno dei colpi di testa! Ma mi servono tre centrali di centrocampo! Perché Veloso e Benassi in due hanno perso troppi palloni! Questo è il gol! Gol di Gabbiadini! 1-0 per la Samp, ma stavamo aspettando solo che facessero il gol! L'Alzovic si è fatto male! Ci sta ragazzi, meritiamo, strameritiamo di perderla! Ha strameritato la Samp! Spero vincano 2-0 tra l'altro adesso! Perché è troppo... È troppo irrisorio il loro vantaggio! 0-2, giusto! Gabbiadini! Purtroppo per la Samp è forte solo su FIFA, però su FIFA è fortissimo! Supriaga! 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 Il tiro! Paraudero! Fortissimo! Giusto! 0-3! 0-3! Gol della Samp! Credo che abbiamo fatto un grave errore a comprare Suarez, perché adesso ci vogliono far perdere per la conferenza stampa! Vediamo se è come l'anno scorso! È un peccato perché con Napoli la sconfitta ci stava, ma la meritavamo già molto di meno! Col Crotone è arrivata una vittoria, con la Samp si sperava in una partita più equilibrata, ma oggi i giocatori di Ragneri sono impossibili da fermare! Ragneri fatto bene, tra l'altro, vi segnalo! E purtroppo l'anno in Premier League di Gabbiadini ha permesso ancora oggi a vivere di rendita la Samp, che ha dominato grazie a Manolo Gabbiadini, comunque ha perso contro Ragneri un onore! Ma sicuramente quell'anno passato in Premier di Gabbiadini gli permetterà fino ai 35-36 anni di essere disumano su FIFA! Bisogna avere pazienza per Ortega, su Arez non è facile ambientarsi una nuova squadra, questo non è cambiato! Sono quelle partite lì che non vorresti mai avere, non vorresti mai giocare, le stiamo giocando! Però ragazzi è una cosa che mi preoccupa molto, se è come l'anno scorso che ti chiedono solo perché non hai schierato questo, perché non hai schierato quell'altro, sarà una stagione davvero molto pesante, se è così! Comunque abbiamo due giorni di riposo, adesso abbiamo il Torino, poi attenzione però ragazzi abbiamo l'Inter a distanza di due giorni, e poi la Roma, quindi inizia a farsi veramente in salita questo campionato, come anche FIFA 20 era così! Ok, Torino-Ellas, purtroppo in casa abbiamo ottenuto una pesante sconfitta con la Samp, devo capire se è dovuto al mercato o se effettivamente c'è qualcosa da cambiare, però per il momento possiamo confermare ancora tutti, ritorna però su Priaga dal primo minuto, perché abbiamo lanciato nella misca su Arez nella partita sbagliata e ho paura che si rompa subito la sua autostima, quindi rimettiamo dentro su Priaga e giochiamo contro il Toro! Silvestri para ancora, calcio d'angolo, molto difficile difendere in FIFA 21, qua era un dovevano enorme, un giant dovevano! Si se chiude! Bello questo lancio per Rueg, non è bellissimo invece? Rueg ruba palla! Calcio d'angolo, bravissimo Rueg, voglio che sali di più! Palla dentro! 0-1! Si se! Straordinario! Giocatore dell'Olimpiakos! Ha distrutto la porta col suo cranio! Rivediamo! Dove è andato? Dove è andato? Con che forza l'ha girata questa palla? Grazie ragazzi! Sì, sì! Supriaga! Supriaga! Il tiro! 0-2! Supriaga! Segna sempre! Quando gioca lui! Segna sempre! Supriaga! Il nuovo Sheva! 0-2! Ma scusami! Ma scusami! Ma scusami! Mi ha tirato giù Sissé! Prima ha fatto male a Sissé e poi dopo ha segnato! Vediamo! Perché è caduto? Perché è caduto? Dai, non riesco a vincere un contrasto! Ma dai! Han pure dato la... Ma dai! Han pure dato il vantaggio! Cioè è evidente che devono segnare! È troppo evidente anche quest'anno! Suarez! 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 Il tiro! Dai ragazzi! Dai ragazzi! Dai ragazzi! Supriaga! 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 Prova tu! Para Sirigu! Non ti sei liberato bene! Fisco finale! Pareggio! Madonna mia! Con lui saremo ancora più forti! Torna presto Lazzo! Ortega! Ortega! Di nuovo! Ho apprezzato l'impegno! Niente! È così ragazzi! Non fate il mercato! Vi consiglio di non fare il mercato! Comunque l'Inter gioca con Nainggolan! Godin! Non ho male... Meno male che non abbiamo preso il Cagliari! Perché mi sarebbero girate troppo le scatole a non avere Godin! Ve lo giuro! Vabbè ragazzi! Che dire! Siamo a Verona contro l'Inter! Però dobbiamo vincere! Magari come l'anno scorso va a finire che con quelle più forti che si scoprono di più è più facile vincere! Vedremo! Gol! 0-1 gol dell'Inter con Vidal! Ragazzi posso mettere qualsiasi modulo! Devo perderle queste qua! Ok? Lo sapevate già dall'anno scorso! Non capisco perché continuate a insistere! Calcio d'ango! Non so come facciamo ad essere ancora 0-1! Veloso! Sissè chiuso! Ragazzi abbiamo la mossa Sissè! Usiamola! Sissè! Uno pari! Ragazzi siamo sulle spalle di Sissè! Abbiamo comprato un mostro! Abbiamo comprato un mostro! Tiro di Lautaro! Gol! 0-1-2 1-2 per l'Inter! Fischio finale! 1-2! Vince l'Inter! Va bene dai! Che cosa dobbiamo fare? Abbiamo giocato divinamente! I miei difensori hanno giocato benissimo! Abbiamo subito due gol sugli unici due tiri che sono riusciti a fare! Sfide! Concedere due tiri all'Inter in tutta una partita è da pro gamer! Però il problema è che li ha insegnati entrambi perché così deve andare! Le cose stanno andando molto bene per noi ultimamente! Se a quanto ci tengo a giocare per lei è per questo club! Mi chiedevo dunque se non fosse il momento giusto per parlare del rinnovo del mio contratto! Sì è vero Miguel Veloso sta andando tutto molto bene! Speriamo che la Roma col fatto che non è ufficiale giochi peggio! Questa è la nostra speranza! Ok ragazzi allora inizio a sentire abbastanza lo spauracchio spalcellona come l'anno scorso anche quest'anno sembra che la carriera stia partendo in modo analogo cioè molto in salita questa volta però non ho il tempo né la voglia di soffrire come l'anno scorso per cui proviamo a fare un cambio di modulo e magari anche un cambio di tattica di gioco ci avviciniamo a come era abituato a giocare l'Ellas già l'anno scorso cioè con la difesa 3 mettiamo il 3-4-1-2 che in realtà è un modulo che per i giocatori che abbiamo va benissimo perché Ruega è l'unico che viene segnalato essere fuori ruolo però in realtà per le statistiche che ha va bene anche come difensore centrale da capire insomma se mettere Ortega se tenerlo esterno o se arretrarlo ad Asa però togliamo Faraoni e Valentini mettiamo Ortega più avanti Faraoni sulla destra che è il suo ruolo teniamo comunque Veloso, Benassi e Zaccagni lì a centrocampo e aggiungiamo Suarez quindi in realtà abbiamo un difensore in più dietro e abbiamo un attaccante in più davanti vediamo ragazzi è un enorme rischio perché potremmo trovarci addirittura peggio di prima e se perdiamo anche con la Roma veramente dobbiamo considerarlo un avvio molto deludente per cui andiamo contro i giallorossi sperando in davvero una prestazione straordinaria e ormai inaspettata in attesa dei nostri mastini usciamo dalla difesa pressa molto la Roma dobbiamo allargare il gioco attenzione Supriaga è partito in profondità Supriaga ancora Supriaga, Supriaga, lo stop viene chiuso dal difensore incredibile Olsen deve spazzare, palla dentro Van Drongelen sempre attentissimo possiamo ripartire Supriaga tra le linee, Supriaga, 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 Supradin 0-1 segna sempre, solo Supriaga, 0-1 stiamo molto attenti ragazzi attenzione alla risposta di Dzeko uh abbiamo rischiato di dare il rigore Dzeko, Dzeko, miracolo del portiere si se madonna si se che acquisto ragazzi che non avete fatto fare grazie allora Rueg, Günther, Sisse, Van Drongelen, Faraoni, Benassi, Veloso, Valentini, Suarez, Ragusa fuori Supriaga ha fatto una prestazione perfetta dai fischio finale 0-1 riusciamo a tenere il vantaggio fino al novantesimo qua all'Olimpico vinciamo 1-0 contro la Roma può essere forse un piccolo avvio di risalita dopo tutta la sofferenza che abbiamo avuto in questo episodio a partire dallo 0-3 con la Samp davvero soffertissimo vediamo statistiche dicono comunque una partita abbastanza alla pari noi alla fine ragazzi eravamo schierati così eh però Supriaga straordinario Ortega straordinario Sisse, Magnifico, Veloso ha preso 8,4 invece loro hanno giocato bene in difesa beh hanno un trio di difesa che fa veramente paura ma l'abbiamo spuntata noi e poi invece De Luca vediamo cosa ci porta De Luca ci porta Angelo Costa ingaggiato Mazza fuori Nicolino dentro Pellegrini fuori beh devo dire che i cognomi effettivamente li hanno un po' migliorati Ragusa ha venduto il Fulham e poi offerta per tutta dai Colorado Rapids e direi che qua si può anche mandare subito quindi facciamo un po' di cassa visto che eravamo rimasti con 0 euro e poi nel mercato di gennaio riusciremo a fare qualcosa contro il Bologna vediamo come andrà ragazzi io ovviamente confermo il modulo Lazovic si è ristabilito comunque Lazovic già giocava esterno nella difesa 5 quindi non è un problema ha ancora il cerottino quindi aspettiamo e niente ragazzi Marcantonio Bentegodi andiamo a giocarci questa partita è la scontro Bologna non possiamo pretendere di vincere tutte la vittoria con la Roma ci dà speranza forse questo episodio si può ancora salvare dipende ovviamente da come giochiamo ora con il Bolo il tiro para Silvestri para Silvestri calcio d'angolo per il Bologna Orsolini chiuso Rueg è fortissimo compratelo tutti nelle vostre carriere è molto forte vai Supriaga ormai ti trovo a memoria Supriaga chiuso vabbè ragazzi non ha proprio un dribbling da pazzi si se su Palacio senza problemi abbiamo veramente barato comprando si se abbiamo barato dentro guardate come si inserisce Supriaga para Skorupski straordinario proviamoci ora Suarez palla per Zaccagni stop il sinistro 1-0 Ellas segna Zaccagni che si beve il suo caffè il suo caffè ristretto grande assist qua di Suarez molto altruista per l'inserimento di Zaccagni 1-0 Ellas dai 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 Suarez passa in mezzo 2 Suarez 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 spara Skorupski anche sfortunato il giocatore colombiano va detto Benassi dentro Suarez Suarez 2-1 si scusate 2-0 avevo visto l'1 diventare 2 ho detto 2-1 2-0 per l'Ellas primo gol in Serie A di Luis Suarez che tiro che destro raso terra rivediamo mamma mia bacia il palo finisce in gol 2-0 2-0 ragazzi difesa 5 in fase di non possesso siamo in una botte di ferro non abbiamo ancora subito gol con la difesa 5 non abbiamo ancora subito gol Rueg è straordinario tiro para Silvestri qua devo dire bella parata bravo Silvestri è partito Vale anche da esterno anche da esterno Vale Vale dentro Supriaga 3-0 segna anche oggi capo cannoniere della Serie A Supriaga su assist di Valentini splendido 3-0 qua a Verona ora Lellas gira col cambio di modulo 4 gol fatti 0 subiti una armata lì dietro con Van Drongren si se Rueg ha preso 8 Zaccagni ha preso 8,7 Suarez ha segno Valentini comunque un assist sì abbiamo fatto la nostra partita molto bene mi aspettavo delle challenges mi aspettavo delle challenges ma arriveranno vi lascio con Zaccagni che si beve il caffè abbiamo già visto un bel po' di partite per la precisione 1 2 3 4 5 più tutto il mercato per cui direi che verrà già un episodio bello denso io vi saluto e vi volevo ricordare di iscrivervi al canale cliccate il tasto iscriviti perché manca veramente poco ai 100.000 iscritti e per me che sono su youtube dal 2012 con alti e bassi pause ritrovi sarebbe veramente il coronamento di un sogno per cui iscrivetevi che manca poco ci vediamo presto con un nuovo episodio di carriera a Grazie a tutti.